scusate ma si era interrotta la live eccoci qua allora andiamo andiamo avanti è stato anche molto complicato allineare la statuetta vediamo un po' qui non c'è niente perfetto ci è ci manca ora e allora deve esserci qualcosa qui ci manca Oh. Vediamo un po' qua se c'è qualcosa. No, ok. Noi siamo venuti da là. Vediamo un po'. Scegli un oggetto da usare. Eh, manca la chiave allora qua. Non puoi forzare, in effetti. Vediamo un po'. Marito e moglie in vacanza. Lui è il numero 12. Sfortunatamente la moglie non andava bene. Quindi ce ne siamo sbarazzati. Tre studentesse, tutte marcite. Mutati in tre giorni, lui è il numero 13. Ah, però. E c'è anche una foto. Vediamo un po'. Qua non c'è niente. Potrebbe trattarsi di altre vittime. Beh, giustamente. Qui c'è una horde. Questa. Che schifo. Ola, che è successo? Ui. Ui. No. Annaccia, miseria. Mamma mia. Qui ci vuole subito là. Sto samentuzzo. C'è un altro passaggio. Questa è in città. Ottimo. Buon divertimento. Grazie. Allora, qui abbiamo detto che ci manca qualcosa. Dove sei di bello? Fernbus. Dove sei di bello? Fernbus. Scusami. Buongiorno. E' ben ritrovato. Com'è la situation lì? La situation comedy. Gran sasso. Quindi stai bello fresco fresco. Immagino. Non ci sono abbastanza. Ah, ecco. Devo lasciare qualcosa. Allora, vediamo un po'. Io direi di lasciare le monete qua. Perfetto. Poi la videocassetta. Non ci serve più. Per il momento ci teniamo queste altre cose. L'erba qua. Medica. Fa sempre bene. Combina. Oggetti. Qui. L'erba medica ci sta. Perfetto. Ah, ecco qua. Perfetto. Caspiterina. Perfetto. Insomma. Vi andate a mettere al fresco. Hai notato qualcosa accanto al tuo NickNim? esattamento si, protovip allora ho qua, nel dubbio ok ai 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 certo che qua mi ha parecchio tempo che non danno una bolidina ok vai tranquillo prendi tutto il tempo che ti serve e queste qua appena hanno sentito il tuo nome si sono subito subito sono sono accorsi sapendo che c'era il super mega presidente questa è chiusa Lara qua non c'è forse qua c'è qualcosa no mi raccomando amici seguite il canale dell'amico talebano ovvero la zappa storta grito comunque oh a posto per ora qualcosa di buono si è trovato la bustina salivano 77 ha appena brindato con 10 bits grazie mille grazie mille grazie mille oh cacchio no e dai appena hanno sentito il pronunciare il tuo nome subito subito sono venuti grazie comunque per il supporto e qua la situazione non è proprio delle migliori oppo bacco ottimo combina perfetto cacchio ecco camin ecco ma noo dai è possibile scape 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 oh cacchia scappa scappa fu 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 no siamo nella cacchina cio pochi proiettili dai apri 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 la piappia rio controlliamo prima qua ciao presidente grazie ancora per il supporto ten chiuso ma c for the beat e me fatte per caso presidente verissimo grazie ancora per essere passato in live facciamo la miscela al 2 per cento aspetta però andiamo prima a controllare quella porta o caccio allora come non detto va fu 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 si capisce si capisce ai 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 niente da fare così non va aspetta 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 non entra in questa serratura ai 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 mi ha sprecato pure un brocchettile qua questo ma corri corri e non fermarti corri e non fermarti mamma rogarmano mamma rogarmano fu 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 Amma di nuovo! ma 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 questi da dove arrivano mai non lo so scappa 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 no dai e già mannaggia la misera mannaggia e ma che stanno proprio stanno arraggiato si però qua con tutto rispetto all'altro allora in dando aspetti a qua c'è uno scorpione vediamo un po' il problema è che qua stiamo a secco e vabbè chiamati in video vecchio mio ah finalmente questo è uno ma ne sono rimasti altri due se non ricordo male ah io alla fine ho raccolto una moneta a t non ho dimenticato qualcosa qua fammi controllare cos'è che ho preso queste cose sono elementine psicostimolanti proviamo oh oh ah oh ah 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 E prima si è aperta, com'è possibile? Allora, vediamo un po', è chiusa dall'altro lato, ok. Speriamo di non fare una brutta fine qua. Ah, cartuccia che cucina. Allora, vediamo un attimo sta mappa. Vediamo di ritornare più o meno dove eravamo. So, let's try to go back. Che cosa è questo? Allora, qualcosa devo lasciare. Oh, qua c'è una scala. Andiamo qua. Eccolo là. Oh, qua c'è. Qua c'è la stanza del Suspente. Ma non ho capito. Aspetta, ma qua? Ma... Eccolo qua dov'era. Ma non ho capito. 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 Quelle che sono, per amico, le potelezze. Eccolo. Allora, forse adesso riusciremo a sbloccare la porta dell'armeria, quindi magari ora ci prendiamo la porta dell'armeria. Dobbiamo riempire la scuola qui, questo, da quella che ci prendiamo in questa ruota, in questa ruota armata. Rubb, perché ci devono state con il questo ruota? Non l'hoosa. Ma c'è nessuno, non l'hoosa. Molto, è il ruota, non l'hoosa. Aspetta un momento, era ora che ci sto pensando C'è un cassetto bloccato da qualche parte qua Però io non ho capito una cosa C'è un cassetto bloccato C'è un cassetto bloccato da qualche parte qua C'è un cassetto bloccato? C'è un cassetto bloccato da qualche parte qua 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 perchè dice questo? forse perchè ah ecco qua cartucce per il fucile come se ne è passato ormai molto tempo dal suo ultimo controllo e scrivo per informarla che ho appena terminato di esaminare le sue lastre le ombre presenti nell'area del cranio sembrano essere colonie fungine quasi sicuramente correlate alla muffa allucinazione e i suoni di cui mi ha parlato potrebbero dipendere da queste formazioni qua non c'è niente la dentiera ma io sai che ti trovo prima o poi e quando ti trovo non hai scampo lo sai? hai scampi ma ti trovo prima o poi INK l'forcio Cori, corri, corri, corri! Cori, corri, 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 corri! Cori, corri, 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 corri! Mannaggia la miseria, mannaggia. Ma allora, vuol dire di fare una cosa. Questa. Dovrei lasciare qualcosa qua Vediamo un po' di lasciare qualcosa nella cassettina Dovrei lasciare qualcosa perchè ho bisogno di prendere la scuola Dovrei lasciare qualcosa per prendere la scuola Dai Allora ecco qua Allora Questa non ci serve più Questa non ci serve più Ho nascosto qualcosa di interessante Provo a trovarlo Aspetta Allora vediamo un po' Se intanto riesco a combinare qualcosa Niente Allora intanto facciamo così Salviamo Ok Dov'è? Di qua Nooo mannaggia Tu non ti muovere da lì Scendi 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 Mannaggia Ma guarda chi sto Sto proprio inguaiato Hoi la la Sigh... Muoviti, 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 muoviti... Hurru, 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 hurru... Dai... Perfetto... Adesso... Qual era quello rotto? Questo qua... Beh, non va capito questo... Eccolo... Ok, quindi questo era il buono... E' questo... Ok, perfetto... Però adesso... Dobbiamo... Ma giusto... Dobbiamo andare... Per andare... Dove dobbiamo andare... Per andare dove dobbiamo andare... Oh, finalmente l'ha presa... Combina... Manca l'erba medica qua... O l'erba... Vediamo se la troviamo da qualche parte qua... Qua non c'è... Questa... Questa l'abbiamo già vista... Questa.... ahi oi 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 allora vediamo un po' la mappa allora quindi stanza dei bambini però li porta qua c'è una chiave il esterno ok qua non c'è niente vero? e quando una cosa serve non c'è qui si scende al piano di sotto devo ritornare nel garage cosa è questo? questo è utilizzato con il bruciatore allora però una cosa è certa a me il pendolo non serve quindi io direi di andarlo a posare da qualche parte a depositare allora devo andare a vedere nella cassettina lì perché c'è qualcosa che ha forma di scorpione solo che io lo scorpione non ce l'ho scorpione blu non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è a zero ok quindi questa porta qua in questo momento vediamo un attimo una cosa guida no non è qua chiama scorpione salone d'ingresso c'è una stanza da aprire qua non entro in questa serratura ah questo è il serpente giusto si scorpione qua pure no qua mi sembra pure il serpente pure qua infatti però non ho capito una cosa devo capire forse è qua ma qua mi sembra ah ma qua sono già venuto ora che ricordo però aspetta un momento si si qui è dove stavano quasi per farmi la pella e qua ci fanno la pella allora qui sono entrato però prima voglio vedere una cosa di qua anche qui sono entrato mi sa che devo andare proprio là qui è chiuso e qui si va a morire però prima di andare a morire dobbiamo andare verso l'officina quindi sempre dritto sperando che non ci siano ecco ecco essendo ancora un altro dov'è 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 fluido chimico forte hoppapacco però non ho capito una cosa c'è qualcosa che ho mancato fammi guardare meglio quindi quindi qui da qualche parte deve esserci una chiave quindi in ogni caso trovo la chiamata ma non so dove è questa chiamata io dov'è trovare io dov'è trovare che una clé ma non so dove è allora vediamo bene in bas di qua non so Ma qui ci vuole, non entra in questa serra tu. Da qua abbiamo preso il... Ecco qua, finalmente combina. Ah, posto. Ok. Allora, qua... È chiusa dall'altro lato, stanza della caldaia. Ho sprecato una cartuccia inutilmente. Non ho capito perché poi... Allora, fammi diretti una cosa. Non ho capito, non ho capito. Non ho capito. Non ho capito, non ho capito. C'è scritto scorte qua, ma è una scorte di che cosa? Dove sta sta chiave? Allora... Non ho capito. 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 È la chiave là. Allora... Dove era? Se non mi sbaglio, quella là di fronte dovrebbe essere. No, testa di cane. Non ho capito. 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 Grazie. 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 Ok, perfetto. Però qui porto scritto scorte dove che dovrebbe essere da quest'altra parte della casa italiana Samy Ben, benvenuti. Benvenuti al stream e benvenuti al canale. Grazie molto. Grazie mille. Grazie mille. Questo game è abbastanza difficile da giocare. Ho cercato di trovare un giro con questa form, un'eagle form, ma è molto difficile da trovare qui. Ma se non mi ha il bagno, se non... non so... dovrei avere qualcosa che ha un cuore. Ok, dovremmo trovare un'altra parte. Ok, dovremmo trovare un'altra parte. Noi... Però fammi dare un'occhiata qua, ma qua non c'è niente, non c'è niente qui Sì, non c'è niente qui I need to find other things, I must explore this map Grazie per il follow, benvenuto al canale Grazie mille, benvenuto So, let's try again Yes, I do A few keys I need to find a key here For going on I am stuck in the In a room I killed all the monsters I killed all the monsters But I don't find any key I am stuck here 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 E'venuto da qua E' venuto da qua Chi Questa è in situa Questa è la E' aperto! E' aperto! E' aperto! l'ho fatto ma non ho trovato niente l'ho fatto ma non ho trovato l'ho fatto ma non ho trovato l'ho fatto ma non ho trovato Sì, in that room Sì, in here Sì, sì. Sì, sì. 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 I can't bring nothing. Vabbè diciamo che ho messo questa età per quelli un po' più sensibili. Ciao notte and benvenuto alla live. Sì. 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 I'll try to find another way to entering there. c'è un'altra porta qui è fermata c'è un'altra porta qui è fermata non ho trovato nulla e allora qua abbiamo visto qua pure qua niente qua niente qua manca parlare niente nada di nada già un po garazzo ok niente qua hoppla un po' Grazie. Grazie. E vediamo un po', parlava di orologio a pendolo dall'altra parte. Ok, tell me when I am near the door, ok. Don't worry, my German is not very good. I can say only my name is Fabrizio and nothing else. Don't worry. The class is not in the morgue, ok. Don't worry. It's a very good idea. I don't think I was going to talk a little bit about that. Grazie a tutti. 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 Allora, dove ero che dovevo andare? Mi pare di qua. Ah, no, non qui. Questo è un labyrinth. So, let me see. Allora... Dovrebbe essere qua, se non ricordo male. Ok... 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 questo non è una cosa buona è il padre della ragazza che ha matato è il peggio, il peggio ero molto vicino a avere il secondo cuore il peggio è il peggio il peggio non posso saltare in questo gioco e che stiamo bloccata stiamo bloccati, ho bisogno di trovare, c'è una figlia, testa rossa di cane ai ai ai, ho bisogno di spazio, di spazio ai ai ai, ho bisogno di spazio, ho bisogno di spazio qualcosa qualcosa ma non so dove to drop ai 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 ok nooo no, è che è che caccio ai 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 nooo nooo no 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 Oh, è proprio un peccato. 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 Oh, allora devo lasciare qualcosa. Oh, è proprio un peccato. Oh, è proprio un peccato. Benvenuti. Come. Oh. 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 Sì, è stato molto difficile, ho usato il suo mille, ho bisogno di cortarlo Il Presidentissimo Maurizio Max, buongiorno e ben ritrovato Ok, questo non va bene Ma non poteva tagliare Vai, vai, taglia, taglia, cut, 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 cut Ok, si è rotto Allora, andiamo a recuperare Allora, abbiamo trovato la testa del cane Dobbiamo andarlo a posizionare Ok, ora andiamo a posizionare il cuore Nella porta Questa è sempre chiuso Allora, vediamo se riesco ad orientarmi Ok, ho dovuto mettere il cuore A posizionare il cuore A posizionare il cuore Oh Buongiorno Non è bene 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 La signora non sta bene C'è una faccia bianca C'è una faccia bianca Allora Ok, sono ritornato indietro Sono tornato ora E ho avuto E ora Non è l'inizio del gioco Vediamo 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 La città La città è nuova L'unico 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 Obitoio Stanza Nella online non è facile sto gioco sembra semplice ma non lo è mi ero illuso per un attimo allora ritorniamo un attimo dove eravamo ma qua un attimo No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. quello qua sto gioco è bello complicato però ho visto un'altra... vediamo un po' entriamo per di qua e vediamo... questo come sempre sta chiuso e qui dove che siamo? ah si qua siamo dove dove? cioè praticamente io sono cammino in muratura aspetta un moment... ah no non è qua qui ha sostituito il fucile non vero con quello lì vero allora quindi non è qua ma dobbiamo scendere dall'altra scala ok da qui dobbiamo scendere cerchiamo questo cammino in muratura e vediamo un po' se riusciamo a trovarlo quello non è meglio metterle nel furno qui siamo tornati qua ma quindi noi stiamo in nel B1 basement per ora ho messo una traccia di camino Maurizio chiama un attimo camino e eventualmente risponde qua mi dici guarda ti manda a salutare tab però dovresti dovresti farti vedere un poco allora non c'è qua ma la vaga impressione che sia nella casa che qua non penso che ci vanno a mettere un camino sta già affannato eccolo vediamo un po c'è un camino qua ma qui c'è un camino ok oh steroidi questo è tutto ui mi credevo quale fosse il regalo qua eh ma qui eh qua ci sono altre armi vabbè io direi che per il momento questa live termina qui questa lunga live della domenica mattina vi aspetto oggi pomeriggio per per farming dalle 16.30 sarò in live per passare un po' di tempo insieme quindi grazie a tutti per aver guardato qui grazie a tutti per aver guardato questo live streaming il nostro next rendevo per questo giorno è per oggi è per il 4 e qui in Italia se vuoi comprare questo video scontato trovate il link nella descrizione di video dove puoi comprare questo game anche questo game scontato il nostro posto è dimasso con Resident Evil 7 per oggi è terminato il nostro posto è dimasso prossimo quest'après-midi a 4h30 io vi andare in live con Farming Simulator e se siete interessati a chiare questo giù a prez riduto in la descrizione della video vi troverà il link per chiare questo giù a prez riduto grazie mille e stado buone ciao ciao bye bye ciao